Da 40 anni, Sapientino è come te, sa come farli crescere. Esatto! Tu che sai leggere, cosa mangiamo oggi? Pizza! E da oggi è facile imparare a leggere con la penna Leggi Impara di Sapientino. Il cane abbaia. Ah! È l'unica che parla e insegna il bambino a leggere prima, con tante cartucce e tanti libri. La tua faccia e le mannine? Grazie allo speciale sensore ottico. Lava tutte le mattine. Trasforma le immagini in parole e suoni. Penna Leggi Impara di Sapientino. Grazie a tutti.